dai su col Como ci stava bene nasce il nuovo Como di Fabregas non potevamo non fare questo contenuto perché è stato fatto un calciomercato clamoroso finora e il calciomercato non è ancora terminato di conseguenza potrebbero arrivare tanti nuovi innesti e io c'è anche un parallelo che devo fare all'interno di questo contenuto preparati ho già capito dove andrai a parare no no ma il ragionamento che sto per fare però non ce l'hai presente temetevi forte amanti del calcio e tifosi del Como ciao ragazzi ben ritrovati a tutti ragazzi ve ne stiamo portando a bizzeffe dopo di questo è il caso di portare o quello sulla Roma o quello sulla Lazio o quello sulla Atalanta o quello sulla Fiorentina possiamo portarlo un po' su tutte le squadre di Serie A dipende da voi voi supportateci l'unica cosa che vi chiediamo è in questo momento mentre ascoltate il contenuto non vi costa niente un semplicissimo like su questo video mi raccomando per restare sempre aggiornati sui nostri video e non perdervi nulla vi basterà iscrivervi e cliccare sulla campanella attiverete le notifiche resterete sempre aggiornati un canale di calcio era poco ce n'ho due due canali di calcio erano pochi c'ho pure il terzo canale extra calcio li trovate in descrizione come sempre compariranno qui durante il video ci abbiamo dov'à dov'anti ci abbiamo davanti la probabile formazione del Como della prossima stagione Como che manca in Serie A da quanti anni? tanti 20 forse qualcosa di più pure più o meno una ventina mi ricordo il Como veramente una vita ecco è una squadra permettimi di dirlo completamente diversa questa che ritorna in Serie A con ambizioni secondo me completamente differenti proprietà innanzitutto importante che sta investendo moltissimo allenatore importantissimo d'esperienza clamorosa che sta facendo una carriera d'allenatore abbastanza breve comunque perché è praticamente diventata adesso ufficialmente un allenatore praticamente si porta la squadra dalla B all'A con un percorso abbastanza importante e soprattutto inaspettato si riconfermerà in Serie A punto di domanda questo non è dato sapere ma il nome che è quello di Fabregas diciamo che parla per lui parla per lui la carriera che fa da calciatore il suo curriculum da calciatore parla per lui ma onestamente anche quella che è la sua idea di gioco con una squadra che sulla carta parte indietro rispetto a tante altre pur sempre ne ho promossa ok sta arrivando un calciomercato importante però capite bene che questo vuole venire in Serie A a fare il suo calcio un calcio propositivo una squadra che promette di giocare al calcio promette di non chiudersi sulla difensiva ovviamente ogni tanto dovrai pure chiudere perché nel calcio odierno non esiste ormai solo attaccare gestire il possesso della palla devi anche essere intelligente da capire quando è il momento di affondare e quando è il momento invece magari di serve equilibrio di parare i colpi ma i nomi che sono arrivati i calciatori che hanno accettato questo progetto secondo me saranno molto utili alla causa ci hanno una certa rilevanza ci hanno una certa esperienza certi nomi sono veramente altisonanti per una realtà di una neopromossa come quella del come adesso veniamo anche al parallelo ma tanti lo avrete sicuramente capito lui già c'è arrivato però io poi voglio alzare la sticella capirai perché sto dicendo questo innanzitutto io ipotizzo che Fabregas giocherà con la difesa a 4 credo che faccia quello che sia 4-2-3-1 o 4-3-3 poco importa ma comunque la base di partenza sarà quella dipenderà anche dagli altri ed eventuali ipotetici calciatori che arriveranno anche quello anche la scelta che fa Belotti secondo me che lì per lì era titubante ti ricorderai ma sa che è stato il primo acquisto di questa sessione di calciopercato del Como il primo proprio è stato il primo poi sono cominciati a uscire i nomi pesanti sì sì diciamo che Belotti per la realtà Como non è un nome grosso è più lui all'inizio era titubante forse perché ok quelle promesse glielo avranno fatte prenderemo calciatori importanti ma tra il dire e il fare solitamente c'è sempre te mezzo il mare ma lui gli è stata data fiducia gli è stato detto noi ti prendiamo per farti giocare titolare lì davanti per la prossima stagione se ti vuoi rilanciare se vuoi avere la possibilità di rimetterti in mostra anche chi lo sa in ipotetica ottica nazionale per il futuro visto che Belotti ha 40 anni quale piazza meglio di questa tra l'altro in un posto spettacolare noi ci siamo stati a Como e non siamo stati in zona lago di Como ma comunque è una delle zone più belle d'Italia quindi i calciatori hanno più motivi un motivo in più per trasferirsi in una realtà del genere il peperina della situazione l'Alberto Moreno della situazione il Varane della situazione ad oggi ancora non è stata chiusa nel momento in cui stiamo registrando si sta parlando anche di Rodri Sanchez che potrebbe essere un calciatore importante si stanno facendo tantissimi altri nomi lo stesso Paolo Lopez che è praticamente un'operazione chiusa fatta e definita questo ti fa capire quanto il Como punti a non lasciare nulla al caso perché tu prendi Pepe Reina ha 41 anni ok per una stagione però stai a posto perché ti ha firmato per un anno quindi la porta la tappi vai subito e prende pure Paolo Lopez quindi vuoi il titolare e la riserva già stai a pensare al futuro no ma soprattutto tu dici pure se mi prendo subito Paolo Lopez e metti che alla fine lo faccio giocare titolare come secondo c'ho Pepe Reina cioè capisci o viceversa o viceversa ovviamente ma comunque come dici tu il Como non vuole lasciare nulla al caso e soprattutto non vuole una semplice salvezza tranquilla vuole stupire allora hai introdotto l'argomento che avrei introdotto io a breve e qui rinasce il parallelo il parallelo di cui vi parlavo poco fa il parallelo è semplicissimo col Monza col Monza di due stagioni fa è quello anche perché anche vicinanza a livello geografico vabbè quello non c'entra niente è una casualità è una casualità però comunque l'avere in casa c'è un modello che puoi replicare a distanza anche di poco tempo e averlo proprio quasi in casa tua secondo me ti rende molto più vogliosa la questione cioè nel senso voglio essere il nuovo Monza perché ce la posso fare ce l'hanno fatta loro che ce l'ho dietro l'angolo perché non ce la posso fare pure io che mo in serie A ce sto faccio degli investimenti importanti tanti nomi importanti ce la posso fare investimenti importanti che il Monza ha fatto vi ricorderete proprietà Berlusconi rimanemmo così si dice tutti a bocca aperta nel vedere tutto quello che fu fatto all'epoca oggi proprio quello che fecero all'epoca il pessina della situazione i tanti nomi che arrivarono e poi effettivamente il Monza riuscì a tenere alte quelle aspettative perché alla prima stagione per quanto prime cinque partite un impasto ma prima volta in serie A nella loro storia però c'è da dire anche questo poi però ti ricordi che cinque giornate cinque sconfitte arriva Palladino che se studisce stroppa il Monza cambia completamente marcia quindi probabilmente Fabregas verrà mandato via dopo cinque giornate e arriverà non so scherzare no secondo me ragazzi c'ha veramente questo ve lo preannuncio ma tra poco rientreremo nei meriti c'ha le qualità e le caratteristiche Fabregas per fare una grandissima carriera assolutamente partire dal basso con una realtà così tranquilla non significa non farcela per il futuro no no anzi forse è proprio da lì che cominci a mettere i mattoncini per una carriera allora no molto ti dico mi viene in mente il Guardiola della situazione da dove è partito partito subito c'hai anche la strada un po' più spianata perché ovviamente c'è una squadra fortissima però sono casi un po' più unici che rari c'è il Guardiola de turno che arriva a Barcellona e vince subito il triplete al primo anno capite che è una situazione Zidane ce ne stanno tanti sì che vince la Champions la subentrata 12 volte tra l'altro e poi 3 defila cioè sono situazioni molto particolari però era quello il parallelo che volevo fare detto questo e accantonando un attimo il lato dell'allenatore sì cioè quello che ha fatto il Monza è stato un qualcosa di importante è stato un qualcosa di incredibile e ragazzi non era dovuto non era scontato quante volte vediamo cioè non è scontato neanche che il Como farà bene inserendo tanti calciatori così importanti ed esperienza però alzi drasticamente le possibilità poi quello che farà effettivamente la differenza sarà sempre solo una cosa la mentalità perché lì deve essere bravo l'allenatore oltre a proporre la sua idea di calcio senza snaturarsi senza avere paura di subire no dalle squadre più forti se proponi il tuo calcio se non ti sai se riesci a non snaturarti se riesci a dare la mentalità giusta e ad avere l'impatto giusto sta squadra si salva tranquillamente fa quello che ha fatto il Monza la prima stagione e potenzialmente è qui che voglio entrare nei meriti di alzare l'asticella per quello che è arrivato finora e per quello che potenzialmente potrebbe arrivare secondo me stanno facendo anche di più di quello che ha fatto il Monza in quella famosa stagione forse a livello di nomi quindi sulla carta caro mio poi bisogna vedere poi certo perché i Galacticos della situazione possono stare sempre dietro l'angolo dimensione per dimensione qui in Real Madrid ci ricorderemo tutti non è che vinse poi così tanto è stata la squadra forse più forte sulla carta della storia le figurine per eccellenza in ogni reparto però c'è anche la di un'altra cosa facciamo il parallelo col Monza va benissimo di due anni fa perfetto chi è stato il Monza dell'anno scorso? il Genua quest'anno ok quindi ci stanno però la dimensione Genua è diversa allora però per farti capire nomi pesanti al Genua se tu ci pensi non ne so arrivati no non è che non ne so arrivati però diciamo sì ma non hai fatto un calcio mercato del genere non hai fatto come ha fatto il Monza cioè sapevi che il Genua potesse fare qualcosa di buono io non parlo di calcio mercato io parlo in termini concreti in termini di classifica se il Monza due anni fa ha fatto quello che ha fatto è arrivato un dicesimo l'ha fatto perché ha fatto pure un mercato pesante il Monza se il Genua ha fatto quello che ha fatto ed è arrivato un dicesimo l'anno scorso ma Stocomo non è come il Monza quando è arrivato due anni fa in Serie A che tra virgolette non si trova quasi nessuno a quel livello si va a inserire in quella fetta di classifica e ci si posiziona il Genua sfrutta un'annata un po' più negativa del Monza e sfrutta il Como come si ritrova sia Monza che Genua per cui è quello che ti voglio dire sono due realtà che potenzialmente possono rimanere avanti che possono dare fastidio a questo Como per cui è per questo che ti dico attenzione a fare paragoni pure con lo stesso Monza perché il Monza arriva fa investimenti importanti e subito si piazza là e praticamente si riconferma anche l'anno successivo il Como però ci avrà altre pretendenti per quello stesso spazio della classifica che sono sempre agguerrite e sempre forti e che soprattutto hanno già dimostrato in Serie A di poter fare quello che hanno fatto e allora alzo la sticella vanno oltre? no alzo la sticella perché non ci sta solo il Monza non ci sta solo il Geno dell'anno scorso certo ci sta pure il Parma c'è il Parma che secondo me non farà da spettatore che magari non sta facendo gli investimenti così come li sta facendo il Como però è una squadra che ha una storia dietro in Serie A e che ritorna per rimanere storicamente è una squadra che alla Serie A ci appartiene se la leggiamo da questo punto di vista la situazione si complica però ripeto io ti parlo di prospettiva ti parlo di carta la prospettiva è quella di finire più in alto possibile nella parte destra sulla carta puoi replicare puoi replicare e sulla carta ribadisco secondo me è fatto meglio del Monza della prima stagione in Serie A cioè per i nomi che stai trattando stai entrando roba pesantissima però dobbiamo sempre ricordarci un paio di cose Belotti per quanto sia nome importantissimo negli ultimi anni si deve rilanciare Varane pure ragazzi parliamo di un calciatore che non mi sembra abbia cioè abbia fatto cose è un nome esaltante per una piazza come Como ma non vorrei che sia un calciatore ormai proprio a livello da Como cioè non è un calciatore che dici è un calciatore da Juve che però prende il Como successe pure con la Saleditana con Ribery per esempio si possono fare tanti paragoni in realtà lo stesso Alberto Moreno pure è un calciatore svincolato per riuscire a prenderlo il Como è una dimensione sono calciatori che hanno un sacco di esperienze che sono stati a livelli altissimi ecco questo è il ragionamento che faccio io tante squadre non neopromosse che stanno in Serie A ora mi viene in mente l'Udinese della situazione il Verona della situazione l'Empoli della situazione il Cagliari della situazione potenzialmente e si mette già davanti sulla carta sì sulla carta sì poi se riusciranno perché là deve essere bravo l'allenatore a fare amalgama perché comunque ragazzi già adesso sulla formazione tipo che vediamo ci stanno cinque undicesimi che sono completamente diversi e che non hanno mai giocato insieme la difesa è tutta nuova in pratica tutto nuovo praticamente quindi capite che anche quello è un altro fattore che dobbiamo considerare certo perché poi i Deifacco esiste devono creare gruppo amalgama quello che ti dico quella è una sfida difficile però sulla carta sulla carta sì va benissimo potenzialmente è da undicesimo dodicesimo posto anzi forse se imbroccano la stagione grandiosa forse anche decimo però bisogna vedere quello che riescono a fare effettivamente in termini dei risultati perché alla fine è solo quello che conta i risultati contano sempre e solo punto basta non c'è altro che conta in realtà poi gioca bene quanto ti pare ma se risultato non lo fai non lo fai fai come il benevento di qualche stagione fa che sta settimo ottavo alla prima parte della stagione e poi si ritrova retrocesso all'ultimo secondo dell'ultima giornata insomma però io ribadisco per il progetto di per sede il progetto il progetto è sicuramente convincente il progetto è veramente ammaliante cioè io simpatizzerò tantissimo per questa squadra è una squadra che terremo sotto d'occhio sicuramente spero riusciranno a salvarsi perché secondo me il potenziale per io ad oggi sulla carta la salvezza è proprio tranquilla la raggiungeranno anche guarda retrocedono da ultimi contro ultimi straultimi cioè io questo è quello che penso obiettivamente ci sono squadre che già adesso sono indietro cioè nonostante il como sia neopromosso vai a vedere le già citate che hai messo tu poco fa prima in ordine Udinese, Verona, Empoli, Cagliari già sono quattro squadre che partono già indietro rispetto al como nonostante sia neopromosso per cui a meno che non becchi una stagione strepitosa di una di queste quattro e la stagione più de merda possibile per il como allora là parliamo di una squadra che lotterà per salvarse fino all'ultima giornata ma mi sembra il parallelo ancora una volta è con il Monza cioè il Monza ti ha dimostrato a parità dei giocatori dopo cinque giornate l'inesperienza ma so vent'anni e passa che non stai in Serie A quindi l'inesperienza è alla pari per quanto poi avrai un po' depeso in più perché dici è la prima te trema nelle gambe chi sta in campo la prima volta che stiamo in Serie A cioè questi dopo vent'anni siamo tornati in Serie A le aspettative sono elevate il Monza ti ha dimostrato tutto e il contrario di tutto con stroppa cinque partite non ne hanno beccata mezza se parti e lo ribadisco con il piede giusto se prendi consapevolezza se Fabregas è bravo a proporre il proprio calcio quest'anno ci divertiremo e te si rodde più è inutile fare solo i paragoni i paralleli con squadra all'altezza del Como secondo me questa è una squadra che si può paragonare per la sua dimensione nella partita singola pure a un Torino o qualsiasi squadra o qualsiasi squadra di Serie A contro noi sicuro nella partita secca una squadra del genere con la giusta esperienza come fece il Monza all'epoca ti ricordi? che ha fatto tanti scherzetti alle big Inter me ne ricordo tanti dei scherzetti potrebbero ma ripeto la chiave è la mentalità però mentalità ok ma come dici tu che forse è questa la cosa che deve essere aggiustata al più presto possibile l'amalgama se Fabregas riesce a far coesistere e a dare un'impronta del gioco anche a tutti sti calciatori nuovi in base a quelli che sono i suoi dettami tattici allora ci possiamo divertire tanto con sto Como lo stesso strefezza della situazione che la Serie A la conosce lo stesso Cudrone che vorrà tornare in Serie A e ci avrà veramente gli occhi della tigre per dimostrare di essere a livello della Serie A ma ci stanno tanti nomi ragazzi che possono essere importanti per questo io veramente ragazzi sono ribadisco completamente ammaliato e ci riserviamo ancora il diritto con asterisco di aggiornare la situazione perché quelli che sono già arrivati dei nomi so di un certo livello ma potrebbero arrivarne altri importanti quelli che forse arriveranno perché sembra non vogliono fermarsi qui non credo non credo se fermi quindi capite bene di che cosa stiamo parlando ribadisco ancora una volta un concetto espresso in tanti altri contenuti qua con una dimensione un po' differente ovviamente finora abbiamo parlato sempre solo dei big ma ci divertiremo tanto cioè le aspettative spero che poi queste aspettative vengano mantenute cioè ma sono alte le aspettative nel senso prevediamo un campionato più lottato un campionato più divertente un campionato più spumeggiante nelle zone alte della classifica ma anche nelle zone del medio bassa classifica esattamente questo è quello che io mi aspetto quello che dicevo prima questa è un'altra squadra che si va a piazzare in quella fascia in cui tutte vogliono fare bene e stupire e soprattutto non badando semplicemente ad una salvezza tranquilla per cui se sale il como chi è che scende oppure il como che rimane giù chi lo sa la vostra qua sotto nei commenti fateci anche voi una vostra analisi della situazione che può fare sto como lo stiamo esaltando noi troppo siamo non lo so io forse un po' annebbiati dalle operazioni del calciomercato che sono state fatte poi la realtà sarà molto più difficile perché la serie A è pur sempre la serie A e perché la situazione monza succede una volta secondo me infatti ho detto attenzione con l'esaltazione andiamoci piano e facciamo rilavorare tranquilli vincolo lo scudetto preparate 18 punti di vantaggio l'eister ricordate che lottava per salvarsi hanno vinto di linghidin di linghidin di linghidin di linghidin di linghidin alla prossima con un nuovo video